Si è concluso con la vittoria dell'ASD Molfetta il campionato provinciale di basket under 17 la cui fase finale è andata in scena in questi giorni al Palapoli. La squadra di coach Gesmundo ha così concluso un esaltante filotto inanellando ben 26 vittorie su 26 incontri disputati e battendo nel palazzetto di casa il Conversano in semifinale e l'Angiulli Bari in finale. Niente da fare per lo Sporting Club Itonto la cui corsa si è fermata in semifinale in un esaltante match giocato punto a punto proprio contro l'Angiulli Bari. Un titolo dunque vinto meritatamente in campo da Molfetta ma macchiato da uno spiacevole episodio poco prima della semifinale tra Sporting e Angiulli. Protagonista il presidente della società locale Antonio Pucci che ha aggredito verbalmente la troupe di Punto TV intimandole di abbandonare la cabina riservata alle emittenti. La colpa degli operatori che pur erano stati scortati dal custode dell'impianto in quell'area sarebbe stata quella di non aver chiesto il permesso proprio al presidente. Solo l'intervento di alcuni dirigenti dello Sporting Bitonto ha poi evitato che la discussione degenerasse. Fortunatamente l'episodio non ha influito in alcun modo sullo svolgimento della manifestazione che ha infine incoronato meritatamente gli azzuri dell'ASD Molfetta.